Non sono le immagini di un film, ma quelle girate dal circuito di videosorveglianza installato in corrispondenza di un distributore di benzina del comune di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Nel filmato si vede un uomo con il volto coperto che minaccia il benzinaio, puntandogli un fucile contro. In tre gli autori della rapina a mano armata, due sedicenni e un diciannovenne, tutti e tre armati per rapinare gli impiegati della pompa di benzina. E' accaduto in via Appia, nel comune dell'Interland napoletano, due sedicenni con un complice diciannovenne, sono arrivati in sella a uno scooter nel piazzale del distributore, incappucciati, hanno puntato le armi e chiesto l'incasso. Pochi minuti sono fuggiti via con i soldi, gli impiegati hanno subito chiamato i carabinieri, i militari della tenenza di Sant'Antimo e della sezione radiomobile di Giuliano in Campania sono riusciti a individuare la banda in un edificio abbandonato poco lontano. Hanno circondato la struttura, sapendo che erano armati e hanno fatto irruzione. I rapinatori si sono accorti dei militari quando erano mai troppo tardi, dopo una breve ma violenta reazione, si sono arresi e sono stati arrestati. Sequestrate le armi utilizzate per la rapina, una pistola e un fucile replica ma senza il tappo rosso previsto dalla legge. Recuperata anche la refurtiva, nascosta addosso a uno dei minori e gli scooter utilizzati per il raid. Il 19enne è stato portato al caccere di Poggio Reale, mentre i due minori al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei dovranno rispondere di rapina aggravata.